Massimissa! Massimissa! Ho inteso che te stanno a fare i conti in saccoccia come una ruba galline, per cui me so precipitato. Volevo mettere Roma a ferro e fuoco? Roma non è catone. Amici, vi presento Massimissa, retributario dei Numiti e Mauritania, vecchio compagno di Gloria. No, ricominciamo. Trovi un po' di cacciara per via che mi li ha portati i ragazzini in campagna per fare cambiaria, ma stiamo fra misi, sono tutti a misi. Portate la beva, Massimissa. Gli fanno i bozzi, Massimissa. Sta tranquillo, Sipione sta sempre in campana. Sipione è finito. Sono questi gli amici tuoi? Io li conoscevo, erano pure gli miei. Fate conto, questo chi è? È Marco Valerio? Non, signore, Marco Valerio è morto e sotterato a zama. E sto bel zidello chi è? È Curio Sestiglio? Non, signore, Scipio, Curio Sestiglio, non può reggere il bicchiere, per via che la lama di un carro farcato gli ha stroncato le mano. E queste chi so? Chi so ste donne? Sono le donne d'Africa che ci facevano da magna e ci facevano le ferite dopo il combattimento. E la notte facevano l'amore con noi piano piano per non farci male, perché eravamo tutti a pezzi. Queste chi so, Scipio? Queste sono mignotte! Ne sei sicuro, Barbaro? La verità ultima delle cose è inattingibile dalla rappresentazione comprensiva. Che ha detto questo? È Carnero de Cirene, un filosofo greco. Ma che te frega, Massimino? A me non mi piace sto filosofo. Per quest'altro chi è che te somiglia tanto? È di fatti, è mio fratello. Quanto c'ho di più caro. Lucio, Cornelio, Scipione. Detto anche l'asiatico per piacere. A me non mi piace sto asiatico. E sai che dolore. Oh, ma questo non dà preso. E' sapono. Ma a te se sa che non ti è mai piaciuto niente. Ma stiamo qui fra amici, ci fermiamo un bicchiere di vino. Per esempio, domani che è? C'è nessuno dei loro signori che mi saprebbe di domani che giorno è? Che è? Visto? Io lo so, è il 18 d'ottobre. Bravo, bravo l'imbriagone. Questo sul calendario. Ma nella storia che è? Ma che è? È l'anniversario della battaglia di Zama. Sveglia, Scipio. La più grande battaglia della storia che tu hai combattuto è vinta. E io con te. E perché hanno vinto? Ah già, ma perché hanno vinto? Non lo so, deve essere un valore. Hanno vinto. Ma no, no. Ma abbiamo vinto per far imbriagare questi quattro assorzioni? Il 18 d'ottobre. La battaglia di Zama. Ci ha raggiunto, Massimini. Ci ha raggiunto, ma... Ma che è davvero, davvero? Oh! Polis! Basta casa non è andata! Polis! Ma è matto, voglio davvero! Guardatevi!